Musica Benvenuti alla rassegna stampa di oggi, martedì 21 novembre 2017, questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che ogni mattina vi tiene compagnia dalle 7.30 per un quarto d'ora circa e poi in replica. Durante la mattinata, inserita nei vari momenti del palinsesto, fino alle 13.30 che è l'ultimo momento e l'ultima replica, ma come sempre vi ricordo che siamo online anche sul sito internet Occhio alla Notizia e poi sulla pagina Facebook che tra l'altro sta trasmettendo in diretta proprio la rassegna stampa del mattino. E colgo l'occasione per salutare anche tutti quelli che ci guardano, i fanesi e non solo che sono magari in viaggio per lavoro o quant'altro e che non vogliono perdere gli aggiornamenti, le informazioni, le notizie della loro città e quindi li salutiamo sparsi un po' in tutto il mondo. Allora andiamo subito a vedere il santo di oggi. In realtà la Chiesa Cattolica questa mattina ricorda in questa giornata la presentazione della Beata Vergine Maria. L'origine di questa memoria è legata alla consacrazione della Chiesa di Santa Maria Nuova fatta costruire da Giustiniano I nell'anno 543 nei pressi del Tempio di Gerusalemme. Ed è una vicenda che viene raccontata anche nel testo apocrifo del Protovangelo di San Giacomo, dove Anna e Gioacchino conducono la loro bambina di tre anni al Tempio e la offrono al Signore. Sono alle 7.10 il sole questa mattina è sorto, tramonterà le 16.38 minuti, vediamo il tempo. Il tempo per oggi sarà sereno, poco nuvoloso, con qualche addensamento più consistente lungo i versanti esposti ad ovest per un transito di nuvole alte in serata. Le temperature sono in aumento per la giornata di domani, ancora cielo sereno o poco nuvoloso e giovedì lo stesso, cielo sereno o poco nuvoloso. Tempo stabile anche nei prossimi giorni. Cominciamo con il Corriere Adriatico, la prima pagina riguarda l'edizione di Pesero, le svastiche, le svastiche disegnate e poi subito cancellate sul cartello d'ingresso della scuola elementare Anna Franca. Pesero, svastiche l'appello del Preside, se qualcuno ha visto lo segnale amarezza. Oggi si legge il diario e Facebook blocca il Sindaco a centro pagina a Natale con 120 per riscaldare il cuore. Vedete, Piazza del Popolo a Pesero. Sabato prossimo alle 18 l'accensione delle luminarie. Da domenica si pattina sul ghiaccio in piazza al via all'allestimento di mercatini e bancarelle. La pagina di Fano invece, eccola qua, sei schemi definiscono il nuovo volto della città. Ecco l'ex Molino Albani che lascerà il posto ad un supermercato. Questa struttura fatiscente, non è soltanto una piccola parte, in realtà è molto più grande. L'ex Molino Albani verrà abbattuto. Le linee del piano regolatore sono i percorsi, i servizi, i bambini, il verde, le frazioni e Fano Sud. L'altra pagina, la Creval, si impenna il titolo ma resta la preoccupazione. Oggi i dipendenti di Carifano si riuniscono in assemblea in vista un taglio di 88 sportelli. E poi ancora, Mensa rette con la cresta, botte risposta sugli errori. Ruggieri accusa il comune di non contribuire, Ruggieri dei 5 Stelle, mentre l'assessore Mascarin risponde. E i costi indiretti che disinvoltura. Andiamo sulla pagina di Urbino. Il cellulare di Ambera al setaccio, nominato un consulente tecnico sul delitto Lulli. Il perito avrà due mesi per cercare di recuperare i messaggi cancellati. Via Veneto, sempre dal Corriere di Urbino, via Veneto sindaco nel Mirino, solo ritardi e alberi tranciati. L'opposizione attacca l'esito dei lavori in centro e chiede indennizzi per i commercianti. Ancora dal Corriere, sulla pagina di Pesaro, una ragazza cammina sui binari, viaggiatore la porta in salvo. Attimi di tensione in una stazione affollata da decine di persone in attesa del treno. Tutto è avvenuto alle 13.30 di ieri, quando una ragazza sotto gli occhi di molti studenti e viaggiatori si è messa a camminare in mezzo ai binari. È successo in un'ora di punta, la stazione era praticamente piena. L'orario è quello del rientro dopo la scuola. Lei su una trentina d'anni, vestita con jeans e giubbotto scuro, è scesa dal marciapiede sui binari all'altezza del bar della stazione e poi ha iniziato a camminare sui binari. Poi qualcuno, per fortuna, si è accorto e l'ha portata via. Andiamo sulla Valle del Cesano, Mondolfo, nel format due vacanze in una. Exploit di visita ai musei civici, in sei mesi registrati 3.450 ingressi, vincente la politica delle aperture gratuite. Parliamo di Bondolfo, che è un trend positivo che riguarda il vistoso aumento di visitatori nei luoghi della cultura e dei musei italiani. Il tartufo va a barcetto con cioccolato e visciolato, andiamo a Pergola, con l'offerta nel ponte dell'8 di dicembre, si esauriscono gli spazi utili per gli operatori. E poi questo televisore, che merita anche, come ha fatto il Corriere, una bella pagina, abbandonato sulla spiaggia dopo le mareggiate, cumuli di rifiuti di ogni tipo, oltre ai rami e detriti, tra gli oggetti rinvenuti sull'arenile a Marotta, c'è anche un televisore che qualcuno poi ha postato sui social network. Andiamo a Tavuglia, ecco qua Valentino Rossi sotto la scritta del suo ranch. Da tutta Europa, occhi sul caso Ranch, PRG variato e oneri urbanistici gratis, emittenti svizzere, spagnole e francesi seguono la disputa, i residenti mostrano le carte, non rispettate 22 restrizioni. Da Senigallia il blackout del commerciante killer, ha ucciso la madre ma zero ricordi, non si ricorda nulla, è stato interrogato il figlio Gianluca Barucca, ci stavamo preparando per andare in negozio, poi, dice lui, il buio, non ricordo assolutamente nulla di quello che ho fatto, e quello che ha fatto lo sappiamo, ha ucciso la madre. Mi auguro che i responsabili, e siamo sulla pagina di Pesaro del Corriere, non siano collegati alla scuola, svastiche l'Anna Frank e l'amarezza del preside Blasi, sarebbe una sconfitta didattica inaccettabile, il dirigente di istituto lancia un appello, se qualcuno ha visto oppure ha notato qualcosa, informi i carabinieri. Ancora dal Corriere Adriatico, andiamo sull'altra pagina, eccola qua, Megasnet, via libera alla fusione, spese ridotte e migliori servizi, si è a larga maggioranza dei comuni soci, Tagliolini, il presidente della provincia delle Noci, e l'assessore Pesarese, avanti così, dicono, sulla strada della razionalizzazione. In piazza, in cuore, un cuore rosso di ghiaccio, ma il Natale riscalda, o meglio, il Natale riscalda con 100 eventi, facendo riferimento chiaramente tra il ghiaccio e il cuore che scalda, il Comune presenta il format delle feste, stiamo facendo tendenza, anche Bologna ci ha contattato, ed è un calendario ricco di appuntamenti, quello di Pesaro. Vi ricordo soltanto che sabato 25 novembre, alle ore 18, in Piazza del Popolo, si accenderanno le luminarie con un grande show e gioco di luci, poi il 26, dal 26 di novembre, si pattinerà sulla pista di ghiaccio attorno alla fontana, e ancora, fino al 7 gennaio, 40 giorni di iniziative, manifestazioni e spettacoli, e poi il 16-17 dicembre, al Mirafiore, c'è lo spettacolo Il Regno delle Fiabe. Il black, il venerdì nero, della cultura, sempre da Pesaro, con 50 concerti in una notte. Pesaro festeggia il titolo Città della Musica, appuntamento venerdì in 20 luoghi, in 20 posti diversi. E adesso apriamo invece il resto del corlino, la pagina di Pesaro, la pagina principale, apre con la fotonotizia che riguarda la pista di piattinaggio che circonda la fontana di Piazza del Popolo. Siamo all'avanguardia, questo è il titolo. Il sindaco, il nostro Natale anticipato, copiato dalle città vicine. Sabato il via con la pista di ghiaccio, in piazza a forma di cuore. E poi, prima pietra messa a giugno, il resto, forse un anno dopo, il caso della nuova scuola in via La Marmora, dall'evento con Gentiloni, lo ricorderete, questa posa della prima pietra in pompa magna, dall'evento con Gentiloni alla gara per l'appalto, passeranno otto mesi modificato lo schema di finanziamento, delle noci, dice però, l'importante è farla. Sempre dalla prima pagina di Pesaro del Carlino, partirà un esposto all'Asur con l'avvocato, mia figlia non si vaccina, è colpa della mia ex. Sull'omeopata imputato, impugnata la sospensione, ma Mecozzi non esercita. E poi la denuncia, Ricci bloccato da Facebook per le svastiche su Anna Franche. E poi vedremo tra poco, messaggi social ad due ragazzine minorenni, a processo per adescamento, ci ha finito un 45enne amico di famiglia di Fano. Le sorelle li hanno fatti leggere poi questi messaggi alla mamma. La pagina di Fano del resto del Carlino apre con una notizia che circola ormai da diversi anni. A Fano ogni tanto torna sul giornale, però ve la leggiamo. Nasce un monastero a Monte Giove, trappisti da Roma, dalle frattocchie, scelgono Fano per una nuova struttura, 24 ettari acquistati, qui c'è pace, dicono loro, per pregare. E poi, dicevamo di questo adescamento social, nei guai un amico di famiglia, sotto processo un 45enne fanese per i messaggi inviati a due ragazzini minorenni. Per loro era come uno zio, frequentava mamma e papà da anni, era l'amico di tante serate. Fatto sta che questo 45enne fanese a un certo punto ha cominciato, secondo l'accusa, a inviare messaggini un po' così equivoci. E quindi queste ragazzine di 16 e 13 anni hanno parlato, poi con la mamma, la mamma è andata subito alla polizia. Ruba gasolio al proprio camion per rivenderlo agli amici, autotrasportatore arrestato per furto e smercio di carburante, incastrato da un investigatore privato. Si tratta di un quarantenne pesarese. Andiamo sull'altra pagina del Carlino. Il nuovo piano regolatore, siamo sulla pagina di Fano, Guarda al futuro. Fano storica si espande verso il mare. Prevista la riqualificazione dei viali Cesare Battisti e di Viale Colombo. Passeggiata per collegare la Rocca Maltestiana con il bastione Sangallo. E ancora Tribunale Colabrodo, ora ci piove. Servono urgenti lavori sul giardino Pensile, costo 200 mila euro. Poi sull'esondazione del Foglia, del Fiume, assolto il direttore lavori della terza corsia della 14, ma risarciti i danni, il giudice ha ipotizzato eventuali responsabilità per la provincia. Mentre guardate questa fotografia, inversione sull'Urbinate, un ferito grave. Alle 12.20 di ieri è avvenuto un grave incidente stradale sull'Urbinate all'altezza del centro revisioni Nicoletti. Coinvolti un 56enne di Pesaro che appunto ha fatto questa inversione. Ok, andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino. Raffiche, siamo a Cagli. Raffiche di furti in case di Caglia d'Acqualagna, rubati gioielli, spille oro e denaro. Ci sono le indagini in corso dei carabinieri. In tanti ieri hanno segnalato su Facebook questa gente che sta girando per le case di Caglia d'Acqualagna e a quanto pare insomma ci hanno passato un po' di tempo e hanno passato a setaccio un po' di abitazioni. I carabinieri sono impegnati a cercare una Rover 75 e poi adesso c'è anche lì l'esigenza di inserire, di installare le telecamere. Allora, Colombi con il radar. Questa è una notizia che arriva da Urbino, l'intervista ad un allevatore, Fortunato Galeotti, che vive sulle Cesane. I miei esemplari, dice questo allevatore, i miei esemplari qualificati per gli europei. Il signore che alleva questi Colombi è appunto, lo vedete in queste immagini. Ok? E c'è tutta l'intervista della giornalista del resto del carino. L'ultima pagina invece è la storia che sta facendo un po' discutere, sta facendo... A qualcuno piace, ad altri un po' meno. Però, insomma, ve la leggo così com'è. Dal resto del carino. Voglio ritrovare il mio principe e tappezza la città di Volantini. È successo a Fabriano. Amore a prima vista sul treno. E lei adesso non si dà pace, non si dà pace e continua a cercare questo ragazzo che racconta lei, questa ragazza, di aver incontrato appunto sul treno. Vedete, lei sta tappezzando la città di Fabriano perché dice non aveva valigie, non aveva nulla, probabilmente è del posto. Quindi si tratta di un ragazzo che abita a Fabriano. Lei l'ha incontrato, questo ragazzo, poco prima di scendere, forse è stata questa la scintilla che ha fatto scattare questo amore a prima vista. Allora, poco prima di scendere alla stazione di Fabriano, il ragazzo sulla trentina, capelli corti e biondi, timido e dai modi gentili, accarezzò dolcemente il volto della ragazza. Un angelo, non lo ritroverai mai più. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Noi ci vediamo domani, anzi no, ci vediamo stasera perché le 20 a 30 c'è il telegiornale. Domani mattina per la ritura dei giornali. Se avete le segnazioni, se avete cose da raccontarci, 338 49 68 250. Vi ricordo che mercoledì sera, quindi domani sera, dopo il Tg ci sarà l'appuntamento con Primo Cittadino e il Sindaco di Fano, Massimo Seri. Se avete domande da rivolgere al Sindaco, potete già cominciare a fare e a scrivere i vostri messaggi al 338 49 68 250. Come sempre, brevi e sintetici e chiari soprattutto. Grazie per averci seguito. A voi tutti gli auguri di una buona giornata. Grazie.